Diario di Bordo, Gerva. Guardiamoci un attimino intorno. Abbiamo appena attraversato un lago senza sapere che stessimo attraversando un lago. Ora ci sono dei paletti che sono lì, poi tornano indietro di qua. Noi pensiamo di andare di là, ma non c'è niente. Infatti le milf ci hanno teso una trappola. Le milf ci hanno detto, non andate di lì, andate dritti di qua. Noi ci siamo affidati e adesso ci ritroviamo in questa selva non oscura, anzi tutt'altro che oscura, però selvaggia. Se ci dovessimo trovare in difficoltà le milf abuserebbero di noi. Ma poi secondo me vogliono... Vogliamo prima aspettare che ci congiudiamo per benino così si inturgidisce proprio... Sì, perché a loro piace il tuo, non è piccolo. Sì, però è bello ghiacciato, bello freddo. E' bello fresco. Un salutino. Ciao muli. Ciao muli. Vi salutiamo da questo posto pericoloso.